ciao a tutti oggi prepareremo una pasta spiziosissima in una padella aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva due spicchietti d'aglio e due mini melanzane tagliate a pezzetti lasciamo soffriggere mescolando di tanto in tanto aggiungete 160 grammi di tonno 10 pomodorini datterino tagliate a pezzi aggiustate di sale e lasciate cuocere a fiamma media per 10 minuti spegnete la fiamma e lasciamo cuocere invece la pasta 250 grammi in acqua salata bollente eliminate l'aglio aggiungete un pochino di acqua di cottura della pasta saltate la pasta in padella aggiungete un po di prezzemolo e via